Fun! Numbers! Lo sai tu e lo so io! E ogni secondo in più ha un costo! Soldi veri! Beh, allora perché non aggiungono alcuni video live action alla programmazione? Sai, magari alcune partite a giochi da tavolo! O discussioni sui fumetti! Senti, Sider, entrambe le idee potrebbero anche avere un piccolo ma appassionato gruppo di spettatori. Ma saremmo troppo lontani dai toni e dallo stile normale del canale a cui si sono iscritti. Oh, giusto! Non hai torto! Solo è troppo faticoso mantenere un canale focalizzato su brevi parodie animate sulla cultura pop. È come cavare sangue da una pietra lunare. Perché non facciamo un Patreon o offriamo ai fan un altro modo per supportarci economicamente? È questo il problema. Siamo appetibili esclusivamente per le persone sottopagate che annegano nei debiti. Noi non possiamo semplicemente chiedere dei soldi. Dobbiamo andare avanti e ricominciare! Nooo, Cybertron! Che ti prendo? Ego, posso spiegare? Leggi nella storia dell'Erto! Quindi è finita, vero capo? Beh, la morte arriva per tutti, Sider. E siamo solo vittime di questa verità universale. Ma ormai siamo qui. Ci siamo divertiti insieme, eh? Grazie capo! No, grazie a te, Sider. Se ci sarà mai un'altra vita, che ne dici se la smettessi di chiamarmi capo e iniziassi a chiamarmi... Amico. Ehi ragazzi! Sono io, Shackle! Yeah! Non sono morto! E forse nemmeno Dorkly! Ehi! Ehi!